In un circuito di Varano e di Meneghari intasato, zeppo di moto che non si capisce neanche che moto sono, non parlo da lì fuori, ma poi questo è un argomento che non ci interessa a fare delle polemiche esterni, però questa è casa vostra, ragazzi Guareschi, ciao. Ciao Franco. Vi ho visto qua l'ultima volta l'anno scorso, poi in trasmissione ogni tanto venite a trovarci, siete sempre molto carini. L'anno scorso era già nata l'idea di questo lavoro che avete presentato, è coperto dai teli, come vediamo avete visto i vostri bei teli per coprire la moto. Sì, ma sperate che dovete coprirla e non vi siete dimenticati. Allora, ci sfigate questo progetto, quando è nata la voglia di farlo e perché è nata soprattutto? Vai Vitto che è tua. Dai Vitto. Vai, è nata dopo la stagione di corse, il primo anno di stagione di corse con Le Mans 1, l'anno scorso abbiamo preso un Le Mans, l'abbiamo trasformato, abbiamo fatto qualche esperimento di geometrie sui guzzi un pochettino più spinte e alla fine dell'anno dobbiamo farlo anche sul motore più recente che c'è, cioè la base del motore trasmissione Kark che praticamente monta tutte le moto degli ultimi dieci anni, dodici anni di produzione guzzi. Ok, così fa sicuramente molta impressione, vedo che la gente è molto curiosa, arriva e dice mamma mia che meraviglia, poi vediamo anche la vostra moto da gara. Però la base è un'idea molto semplice, cioè quella di mettere in pista dei ragazzi o dei clienti che hanno magari acquistato o vogliono acquistare una moto che si trova sul mercato ben usato, abbastanza abbordabile. Sì, l'idea è stata che è nata praticamente come i nostri clienti che correvano con le moto guzzi, le griso oppure le nache, diciamo moto guzzi, che correvano migliorando i tempi, ovviamente hai bisogno di qualcosa di più e sono venuti da noi a chiederci, una volta fai le piastre, una volta fai una cosa, però sono sempre mezze cose non una cosa che non riuscirai a far bene, però quest'inverno Vitto fa ma se facciamo un telaio? Perché quello rosso, quello che vediamo lì, proprio l'avete studiato voi, quello lì te l'hai detto sotto la sella? Quello io reggisella semplici che ospita l'airbox originale, la particolarità di questo kit è che può essere montato su una, in questo caso è una Griso che vediamo, una Griso del 2006 Gran moto che poi mi spiegherete perché non fanno più Una Griso del 2006 che è stata, è stata defalcata del suo telaio originale, è stato messo questo telaio ma tutto il resto è della Griso, dall'impianto elettrico che non abbiamo montato per non andare a sporcare la linea del telaio, però va montato il suo impianto elettrico, va montato la sua centralina, va montato il suo airbox la sua forcella, le sue ruote, tutto, cioè uno prende la sua Griso, si smonta il telaio, fra 5 anni vuole rimettere a posto la sua Griso Senti, magari voi ce l'avete, in questo momento lo stiamo vedendo, ma siccome non l'abbiamo concorato prima Che differenza c'è tra il telaio standard della Griso e questo telaio? Allora, la Griso ha un interasse per dire dei numeri, che è 1.650 1.560 Questa è 1.470, è 9 cm più corta Ok, un bel tocco più corta Un bel tocco più corta Poi in gioco anche, immagino, una forcella Certo, poi cambia, l'angolo di sterzio è più chiuso, ma non è estremo Non tanto? No, perché va dai 26 ai 25 gradi e mezzo a seconda di come si mettono poi le sospensioni È cambiata la posizione del motore all'interno del telaio, che è ruotato di quarto rogadi per dare una linea di tiro catena più, diciamo, ottimale Il link in questo modo lavora meglio Il link trattasi di questo punto qua, giusto? Sì, il link è tutta questa zona qua che c'è sotto E quello rimane in serie o l'avete fatto? No, quello l'abbiamo No, rimane in serie Viene modificato l'attacco dell'ammortizzatore Viene modificata la parte posteriore Dunque il link lavora con una progressione differente La posizione del motore, come ho detto, è stata ruotata all'interno del telaio Infatti si vede che il tubo orizzontale non è in linea con il carter motore Questo, tra questo tubo e questa linea immaginaria, è aperto di 4 gradi Ok La forze la mantenete? Quella originale Su questa è una Griso smontata e rimontata Con tutte le sue parti E in questo modo qua abbiamo una moto più moderna Con un interesse di una moto moderna Con una distribuzione che va d'accordo con le gomme che si trovano attualmente in commercio Dunque si riesce a frenare dentro la curva Si riesce a fare quello che si fa con una moto normale Ok, perché poi ho cambiato il modo di guida Si è diventato una moto attuale come sono fatte le moto adesso Insomma la moto da MotoGP non è troppo distante da queste misure ve lo posso assicurare Ma no, non posso immaginare che qualcosa lo sai A che spunto l'ho preso Esatto, esatto E questi scarichi? No A questo scarico qua sono praticamente delle marmitte che sono state fatte per la show bike da mettere alla fiera di Verona Poi dopo a noi io e Vito un po' ma 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 Poi alla fine sono piaciute a tutti E mi sono detto lasciamone su perché si vede che quello che piace Sono belli Fanno la sua scena Però è solo una cosa estetica Un esercizio estetica e basta Poi dopo magari ci fate vedere che cosa si può andare a montare Due parole per quel serbatoio Ma quello è il serbatoio praticamente noi Avendo una carrozzeria che diciamo è una cover Perché sia il serbatoio, il codone, il serbatoio è una cover del serbatoio Diciamo quello che vedi dell'estetica della moto E quindi abbiamo avuto bisogno di fare un serbatoio sotto della benzina E un serbatoio del recupero d'olio E a quel punto avendolo dovuto fare abbiamo deciso di fare due serbatoietti in alluminio Come sono fatti nelle corse per risparmiare in peso E anche insomma per dare un po' di modernità alla cosa Le moto, le moto GP, hanno quasi tutte una cover Con al di sotto un serbatoio della benzina simile a questo poi Certo Le quale abbiamo voluto lasciar scoperto per far vedere che sono d'alluminio E non sono fatti di ferraccio In realtà quando glieli date li fate di plasticona Di ferraccio Di plasticona Non c'è neanche sotto La buttate dentro in un sacchetto di plastica Esatto Solo una domanda sul materiale che avete scelto per il telaio Parlavate di risparmio di peso Anche lì c'è stata la volontà di O invece lavoriamo di ferro e basta? Ma guarda Subito eravamo partiti perché il vecchio telaio Woodfield della prima V7 V7 telaio rosso era in cromolo libdeno In acciaio cromolo libdeno E abbiamo partiti per fare in acciaio cromolo libdeno Dopo ho vinto e ho detto Guarda ma la GP che abbiamo vinto il mondiale Il telaio era di ferro E infatti quello lì Oggi è lì ci vede quello E allora E allora Adesso il primo lo facciamo di ferro Poi vediamo E così resterà Perché comunque si deve un po' muovere Il motore dentro un bus Se lo ingabbi troppo non funziona E questo è il giusto compromesso di rigidità e anche di peso Alla fine esatto Non avete dei gravi peso pazzeschi No qui tra telaio quella parte rossa e la parte nera Che è un pochettino più nascosta Che in definitiva è il telaio E anche i due telaietti Abbiamo 13 chili e mezzo in tutto Tra parte inferiore telaio e due telaietti Qua la parte Il telaietto anteriore non c'è Però sono 300 grammi di alluminio Contro i 27 del telaio originale Ok per cui Solamente di 13 chili o di più Benissimo Quindi questa è una base fantastica Ricordiamo che sul mercato dell'usato Quelle moto a quanto si trovano? Ma guarda Tu parti da una Griso Io ti dico la Griso Che ha un po' più di valore 3.500-4.000 Certe Norge 1.100 Le trovi anche a 3.000 2.900 Dipende i chilometri Comunque Dai 3.000 ai 4.000 euro Trovi una moto buona Con 30.000 chilometri Quindi il motore è buono Ancora molto sano Da poter trasformare così Che tu hai una moto praticamente nuova Allora non so se volete parlare cifre Non ci interessa forse in curiosità Ma se l'interessa a voi ce lo dite Quanto tempo avete bisogno Per creare una moto così Per i vostri clienti Per chi arriva e dice Guarda ho trovato la Norge Ho trovato la Griso Me la fate? Quanto ci vuole? Questo lo dice Luca Tra la parola C'è un maledizioni Chiavi inglesi che volano in officina Adesso diciamo che Adesso siamo abbastanza stantarizzati Già con disegni E maschere Tutto quanto Ci vogliono dai 3-4 mesi Ecco per fare la moto Non è una roba Quanto si aspetta Anche perché poi Chi vuole una moto così La vuole personalizzata Difficilmente Ti dice Voglio la forcella Voglio la piastra Infatti in un certo modo Ricavata dal pieno Insomma il motore Normalmente nessuno lo lascia normale Perciò Quello è il tempo che ci vuole Anche perché Se si deve far annodizzare Per dire solamente le pedane È tempo che si aggiunge Però insomma 4 mesi è una cosa eccitabile Certo Anche perché è giusto Le robe che ti fanno eccitare Ci eccitavano da ragazzini È bello aspettare un po' Se non hai subito L'abbiamo vista con questa Abbiamo montato questa Che man mano Con la nostra La prima Siamo partiti con una cosa Abbastanza normale Poi quando mettevamo la roba bella Perché abbiamo già dei clienti Che ne dobbiamo già costruire 3 Quelli che corrono Che l'hanno vista Poi vedevano quello che montavano Cavolo La voglio anch'io Perché qui Sai com'è Quelle cose qui L'appassionato L'appetito Viene mangiando Quando lo vede Quando ti tira l'uccello Diciamolo come no Come ci deve dire in officina Non so se I prezzi Vi assicuro Me li hanno accennati A microfoni spenti Devo dire che è veramente Un'idea geniale Ma lo puoi dire Che o meno l'idea Dopo non lo so Noi vogliamo stare sul kit Che è quello che vediamo qua Ecco Qua manca la carena E manca il cupolino Che poi lo vedremo Sull'altra L'abbiamo lasciato volutamente Dai 6.000 ai 7.000 euro Fantastico Secondo me È un'idea geniale Poi il gus Il telaio lì Tra lì C'è poi Il tubo rotondo C'è il tubo rotondo Il telaio in tubo rotondi E il telaio in tubo rotondi Sì poi qua C'è dentro un po' di storia Della guzzi Anche perché quello C'è nascosto sotto Il telaio tonti Che è il telaio Con cui è Diciamo ha svoltato pagina La guzzi col bussette Negli anni 70 E lì è nascosto Dentro quel telaio C'è nascosto dentro Anche un traliccio Che ricorda qualcosa Che mi riguardava In passato Insomma è un po' Un po' Bello bello Ma si chiama Kit Laio Corsa O Kit Varano Mi vedo la dicitura Kit Varano là Questo deve essere così Però poi abbiamo detto Lo presentiamo a Varano Noi abbiamo fatto Tutta la nostra storia a Varano Lo chiamiamo Kit Varano Bello Devo dire che anche Kit Laio Corsa Non mi dispiace Però va bene Perfetto Ecco Questo invece è il punto di arrivo Giusto? Sì Diciamo che è la Formula 1 Dei Guareschi Sì Ovvero Partenza base? Questa qua La base era Un motore di una Una Stelvio No questa era una Stelvio Ah è vero Non so più Ma neanche tu dovevi Sare partire È vero Questa qua è una Stelvio Era il motore Anche la Stelvio Sì Ma perché la Stelvio Non fanno più Vabbè Franco C'è un'altra domanda? No Non c'è Questa è un motore di una Stelvio Che abbiamo Che abbiamo un po' Vitaminizzato L'abbiamo portato 1.380 Poi abbiamo fatto Qualche intervento Anche sulla Sulla fluidodinamica Senza esagerare Questo è un motore Che potrebbe Tranquillamente Fare due o tre stagioni Di gare E ha 140 cavalli Questo motore qua Con quasi 14 kg Di coppia Si può fare anche Qualcosa di più Ma dopo diventa Un po' di micatuccio Diciamo che qua Siamo tranquilli Siamo Questa pesa Sui 180 kg Non siamo riusciti a pesarla Perché l'abbiamo finita Ieri sera tardi Ma Più o meno Dovremmo essere lì Dovremmo essere Dai 100 ai 182 kg Il telaio è lo stesso Che è notato là Il telaio è lo stesso Cambia Cambia chiaramente La forcella Tutti Diciamo Con 40 Molto più sofisticati Ma anche quello che dicevamo prima Che ti fa tirare La differenza Quella lì Perché te l'hai O telaietto Vedi il telaietto davanti È questo qui Che sarà del kit E poi da lì Da lì puoi arrivare qui Però esteticamente Quella arriverà così Così Esteticamente è così Sì Se smontiamo la cover Li montiamo là Diventa la stessa moto Va bene Con questa moto è nata Per portarvi in che tipo di competizione È solo un esercizio Siete tranquilli in questo momento Correte Avete voglia Non avete voglia Non avete tempo Come funziona No avremmo voglia Di fare qualche garetta Però siamo stati talmente Presi da questa cosa qua Che non siamo riusciti ancora A fare nessuna gara Però questa potrebbe correre Nella botte Potrebbe correre in tutte le categorie Gentleman Che ci sono Nei vari campionati Dal moto estate Nella open Nella open Potrebbe correre Poi adesso fortunatamente Si è un po' aperto Il panorama Il panorama Delle gare Una volta era un pochettino Più da fighetti Adesso si può correre con tutto E chi è appassionato di guzzi Che ce ne sono tanti al mondo Non solamente in Italia In questo modo Può andare in pista Con un oggetto Che funziona bene E meno per quanto posso Grande faccio Che funziona bene Per quanto posso dire io Mi sembra che funziona Abbastanza bene Qualcosa capite voi due Guarda stamattina Uno dei complimenti migliori Che davvero Che un signore ci ha fatto Franco ha detto Fighi Ho visto che l'avete fatta Cioè è una moto fatta sostanziale Cioè che l'avete fatta In primis Non per dire La facciamo bella La facciamo che funziona Esatto La cosa migliore Assolutamente ragione E da lì di solito Ci ha detto Le cose che funzionano Diventano belle Per cui la vostra idea Qual è? Quella di fare una sorta Di miniserie Da vendere anche All'estero Beh sarebbe Sarebbe bello E sarebbe anche giusto Farlo secondo me Visto che non c'è Nessuno che lo fa Ecco La Guzzi Ha fatto l'MGS01 Che ha lasciato Un gran desiderio In tanti guzisti E poi era Abbastanza un sogno Ne hanno fatte anche poche Con questa qua Se ne possono accontentare Tanti Come abbiamo detto prima È una cifra Umana E poi c'è la possibilità Anche Di potersela fare In cantina Durante l'inverno Come le kit carame Inglesi Le varie Le caterame Quelle lì Tu ti metti In garage Ed in vero Invece di costruire La nave di legno Che è quella Di fuoco Poi è arrivata Gli scaricati i pezzi Ma no Se l'idea proprio Mi ha detto Ma figli Sarebbe feo Che arrivassimo Che gli mandia Lo scatolone Bello E lui Dallo scatolone BAM La cassa La cassa di legno Ci sta di brutto Ci sta di brutto Una domanda solo Sulla tonalità del rosso Che rosso è? Questo è il chi? È il rosso corsa guzzi È lui? Sì Rosso corsa guzzi Ci abbiamo pensato Un po' Come la facciamo Come la facciamo Facciamo l'altra Perché la nostra È un po' Di tricolore Questa andava così Fatto bene Rosso cuore Rosso cuore Sì Ti so che adesso Voi avete la presentazione Ufficiale Qui con la tribù Degli scalmanati Però c'è un prodotto Di serie C'è un esercizio Sempre che tu Non abbia qualcosa Da aggiungere No no La roba figa Ti volevo dire Era questo Ecco Questo io non lo so È la prima volta Che lo vedo Come mai avete Perché GcCorsi Abbiamo detto Dai facciamo una cosa Non sapevo Se stavo dicendo Una cazzata Che non me la ricordavo Una cosa nostra Col Guzzi C'è dentro Tutta la nostra famiglia Bisogna che si chiami Gc Che è Guareschi Claudio Corse Perfetto Che è nostro papà Che è fatto benissimo Anche se vi chiedo Di non abbandonare L'ufficile Guareschi Perché è meraviglioso Ci vuole sempre Va bene Vi porto Vi porto Se avete voglia Di spiegarci Quei gruppi di serie Strettamente Che è la tua serie Però con l'animo Guareschi Che è qualcosa Che distingue Tutte le Guzzi Dalle altre Andiamo Allora Prima di arrivare Al Daytona Che tu hai già Hai già detto Che moto è Questa invece Che ha un colore Meraviglioso Ed ha un sapore Particolare Perché Che è del babbo Giusto Era una moto Che si Era della collezione Nostro papà Un SP2 Del 86 85-86 E dopo ce l'avevamo lì Era una moto Che diciamo Che non usavamo Ma neanche lui Era finito Fermo da 15 anni Si si Continuavamo La mettevamo in moto Ogni 4-5 anni Ma batteria Tubi nuovi Messe in moto Rimarciva tutto La rimettevamo in moto Facciamo una cosa Un po' Che ci viene più voglia Di usarla E abbiamo fatto Durante l'inverno A Natale Che non sono andato via Avevo i fili fratturati Non potevo andare a sciare Infatti quest'anno N'ho già prenotato La casa in montagna Si eh Si si Assolutamente Il colore Il colore Iconico Come Mi spiego Come mai Guzzi Non l'abbiamo messo Nella gamba colori Della V7 Questa tonalità In verdegnano Hai un po' Di domande Che Lo so Io Quelli delle case Non li capisco Perché quando hai in mano Un marchio così Con così tanta storia Dei prodotti Tipo la grisa Una moto Che comunque Si giravano intanto Tanti No Vederla Paceva la pazza Le donne È ancora bella E poi Oltretutto È ormai diventato Un po' Un'icona Di quelle È stata una Delle prime Delle naked Con quel sapore Lasciarla È stata Un peccato È stato Tant'è che I griso Specialmente Le 8 valve Sono abbastanza Appreggiati E tengono il mercato Perché non ci sono più Certo Va bene Per cui l'avete rimessa a nuovo Completamente Ogni tanto la usate Sì È poco Non c'abbiamo Tanti vedi che è nuova È rimasto Ma è nuova Dove Tanto noi parliamo Ma siamo sempre in officina Non c'è niente Lavorate Ma guarda che è un male Purtroppo Ai me è comune Però la gomma guarda Com'è Io non sono mai riuscito A vendere una moto Con la gomma così rovinata Te le vendo Solo in mezzo Solo in mezzo Sono consumati Senti Quanto va nella moto così Sul mercato Noi la vendiamo 10.500 euro Pensavo di più Pensavo valesse di più Sì No ma guarda Che poi noi abbiamo fatto Proprio per dire I conti di più o meno Quello che ci è venuto a costare Abbiamo detto Non vogliamo Diciamo Realizzare di più Perché tanto Vuol dire È già un prezzo importante Però L'abbiamo fatta Secondo come Bisognava farlo Nel senso che abbiamo Anche il motore Tutto revisionato dentro La frizione nuova Le ruote Vitto Ho detto Dai ma cosa non ti ha Perché subito era nata Che la dovevamo fare Perché la moto Aveva i cerchi in lega Poi dopo lui No dai Già Ha messo i cerchi a raggi Cioè Abbiamo alla fine Curato tutto per tutto E poi col fanale Davanti e fuori Come le moto Dell'Endurance Spettacolare Negli anni 60 Bellissimo Questa carena Che intanti copiano È Questa carena È Stupenda Bene Complimenti Invece voglio Su quel prodotto lì Che invece è un prodotto nuovo Voi comunque Non ce la fate a star fermi E allora avete creato questa Che l'ho vista subito E mi è piaciuta molto È Anche questa qui Nasce Dall'idea Che Che per noi Diciamo La sportiva Moto Guzzi Deve essere come era Le Mans 1 Che è degli anni 75-76 Che è una delle moto Sportive più vendute Della Guzzi Le Mans 2 Le Mans 3 Queste moto E da lì E da lì ci siamo ispirati Ma se facciamo una V7 Fatta come il Le Mans 1 E pian piano Abbiamo la fortuna Di avere le moto Anche del 75-76 Da cui copiare Da cui ispirarci E quindi Di avere tanti anni Di officina Moto Guzzi Quindi alla fine Le facciamo Diciamo Con un gusto Moderno Ma senza esagerare No Senza andare fuori La moto Per noi Di base Deve restare sempre Comunque quella Anche qua ci vedo Gccorsa Comunque ragazzi Su questa Metterai Gccorsa Qui vi ha messo Il moto Guareschi Gccorsa No Sì Anche qua Sì Potrebbe diventare Un brand Un brand Quanto costa Più di quella di serie Questa Una preparazione così Franco Con 3.500 Cioè 10.000 Adesso costa 7.700 10.700 3.000 euro Viene così Ok Va la pena Secondo me Ma alla fine Cioè Trovi qualcosa Almeno è una moto esclusiva Che hai solo te È vero È vero Mi fa girare la testa Sì I vecchietti No Gli appassionati Che hai i giovani E invece quella là La Daytona Questa Questa è Questa qua è un Daytona Questa qua era la moto È la moto con cui Il dottor John Sai che è il dottor John Anni 90 Quando la Guzia è ritornata Diciamo alle corse Quando era ancora di proprietà Di De Tommaso Si sono inventati questa moto qua Per fare il campionato americano Ed è nata negli Stati Uniti Con questo famoso dottor John Che poi si è trasferito in Italia E ha fondato diciamo Il reparto corse Quello che potrebbe essere un reparto corse E hanno vinto Un bel po' di gare di bot Abbastanza importanti Hanno lottato anche con Marco Lucchinelli E da quell'esperienza è nata il Daytona Il motore è un progetto guzzi Il telaio invece È un progetto del dottor John Si sono mischiate le due cose E poi è nato questo oggetto qua Com'è da guidare? È una moto molto anni 90 Lunga, aperta Però molto stabile Divertente Questa qua è tra l'altro Di un nostro amico cliente Che c'ha anche un po' Peppato il motore Quanto arriva adesso? Questa qua c'ha 130 cavalli Poco meno della vostra Sì perché il motore è più o meno Questo qua è un motore spinto Cioè alla fine i motori guzzi Siamo sempre lì Certo C'è un quattro valvole Però quello che mi sembra di capire Insomma c'è stato uno step evolutivo Che mi ha portato alla creazione Della vostra Del Kid Barano Che evidentemente questa Anche a parcare i cavalli Evidentemente quella la offre qualcosa in più No quella lei So dal punto di vista della guida Ma allora in questi Negli anni Negli anni 90 Anche le gomme a disposizione Erano quelle che erano Dunque non c'era Non era neanche necessario Spingersi più di tanto Nella ciclistica Perché tanto La gomma non ti permetteva Di fare più di tanto Ora le gomme hanno Le gomme Sono gomme da gara Anche quelle che si trovano in commercio Dunque le ciclistiche Devono essere adeguate Devono tenere il passo Del resto che va avanti Devono essere adeguate A quello che si trova in commercio Freni Gomme Ammortizzatori Dunque bisogna fare delle geometrie Che sono poi quelle là Benissimo Senti Devo lasciarvi andare Perché Vanno cominciando a mettere In moto Quelle robe di che non si capisce Quelle robe di che piacciono a tutti Sì piacciono a tutti Tutti i rotami in gano Li mettono sul serbatoio Che non si capisce E via Fra un cuore Entranno dei bidoni dell'olio Con il motore Il due lanti Dico che figo Le robe in tutti i cari Perché altrimenti non è figo È sicuro Allora io vi ringrazio ancora Perché siete sempre Una meraviglia da ascoltare Vedere la passione Che ci mettete Il cuore che ci mettete Il babbo è sempre con voi Questo traspare A tutto quello che Che preparate Che mettete in pista Per cui Grandissimi complimenti E se volete Il mondo Guzzi Lo trovate Da questi due ragazzi Che sono A Parma Ma potete Fare un viaggio da loro È solo un piacere Perché andate a Conoscere un mondo Veramente diverso Abbiamo anche tante moto In negozio Storiche Che posso immaginare Per cui anzi Sarà il caso Che venga a trovarvi Qualche giorno A mettere a posto dei cardani Come solo io So mettere a posto Una moto Un po' Piena di morchia Per te c'è sempre Non ti preoccupare Va bene Sono pronto Vito E Gianfranco Guareschi Grazie ragazzi Ciao 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 Ciao